Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai Suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse, chiamatelo. Chiamarono il cieco, dicendogli, coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse, che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose, rabbuni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Ecco il miracolo di un cieco che vede, che significa che crede. Siamo vicino alla città di Gerico, ormai Gesù è uscito. Alle spalle ci sono le mura di Gerico. Certamente al lettore vengono in mente le mure più antiche, quelle che crollarono al tempo di Giosuè. C'è anche la canzone, il Negro Spiritual. Si combatte a Gerico, si combatte a Gerico con le armi del Signor. Ebbene, questo cieco non ha altra arma che la sua voce. I sommi sacerdoti, i portatori dell'arca avevano fatto squillare le trombe per far crollare le mura di Gerico. Questo cieco ha solamente, ma è tanto, la sua fede e il suo grido. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Un grido ripetuto, perché c'è tanta folla. È la folla che di solito sale a Gerusalemme. Gerico è 400 metri sotto il livello del mare, è la città più sprofondata, diciamo così, nella terra. Sorge attorno a delle sorgenti che l'hanno fatto diventare la città delle palme. C'è tanto verde. Noi la ricordiamo però come la città delle mura. Ebbene, c'è tanta folla e Gesù, insieme a questa folla, sale verso Gerusalemme, che è circa 800 metri sul livello del mare. Dunque un dislivello grandissimo. E verrebbe da dire a Gesù, coraggio, una salita grande ti attende. Ma sappiamo bene, è la salita che lo porta al suo venerdì santo, ma anche alla sua Pasqua. Ebbene, Gesù si incammina e c'è tutta la folla attorno e il cieco grida. La gente passa. E questa è una categoria, potremmo dire, o meglio, più che una categoria di persone, ma è giudicare, siamo noi quando siamo disattenti, quando magari, pensate, quelle persone stavano seguendo il maestro, erano desiderose di camminare con lui, volevano ascoltare le sue parole, la sua voce e non si accorgano di di quel povero che chiede la carità ai margini della via. Ma c'è anche un'altra categoria di persone, ripeto, siamo noi poi in definitiva, che addirittura lo zittisce. Taci, disturbi. Mi viene in mente quando gli apostoli hanno fatto tacere i bambini che facevano festa attorno a Gesù. Ecco, perché l'ingiunzione del silenzio? Si pensa perché disturbava quel cieco. Magari stavano intonando gli inni, i salmi delle ascensioni, i celebri salmi che si cantavano nella sua lita verso Gerusalemme, chi aveva fiato naturalmente. Ma probabilmente è quel grido, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me, richiamava al messianismo popolare che vedeva nel Messia un discendente davidico regale che conquistava di nuovo l'impero di Davide. E quindi lo zittiscono, lo zittiscono per prudenza. Ma Gesù invece anzitutto non è che passa così, si ferma. Gesù non solo non lo zittisce, ma lo vuole incontrare. C'è spesso nel Vangelo di Marco l'incontro di Gesù e l'incontro a tu per tu. Gesù apre un dialogo. Cosa vuoi che io ti faccia? E c'è un'allusione alla preghiera che deve essere perseverante, insistente, coraggiosa, col rischio di essere anche petulante. Ma Gesù si ferma e dice cosa vuoi che io ti faccia? Signore che io veda di nuovo. Signore mio, rabbuni significa signore mio che io veda di nuovo. Gesù in questo miracolo non fa nessun gesto particolare, non lo tocca, non lo risana come in un altro miracolo con la saliva. No, 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 no. La tua fede ti ha salvato. E quel cieco getta via il suo mantello. Forse è un atto di fiducia questo particolare narrativo. Tanto è a favore della storicità dell'episodio sicuramente, ma sta a significare proprio la fiducia, la fede di questo mendicante che prende a seguire Gesù. Non gli serve più il mantello per raccogliere le monetine di quelli che passavano e che soprattutto nel periodo pasquale erano tenuti a fare l'elemosina. prende a seguire Gesù. Bartimeo è figura di tutti noi, dei discepoli che coraggiosamente salgono verso Gerusalemme al seguito di Gesù. Sono belle anche le parole che Gesù dice, o meglio non sono parole che dice Gesù, ma gli riferiscono al nome di Gesù. Coraggio, alzati, chi ama proprio te. Sono le prime due parole pasquali. Alzati, risorgi. Attenzione, c'è un bello sbalzo da fare. Probabilmente dobbiamo tutti alleggerirci. Dobbiamo in qualche modo compiere anche noi quell'atto di fiducia che fa il cieco, gettando via quel poco che ha per seguire il Maestro. Buona settimana, buon cammino dietro Gesù. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.